Musica Il ministro si prepara ad un'altra settimana con una partita tra due grandi squadre dal grande Blasone Meno male, i ragazzi sono stati bravissimi a centrare l'obiettivo della qualificazione e passaggio del turno Quindi adesso abbiamo la possibilità di entrare ancora in un clima agonistico preparando una sfida bella, bellissima Perché giocare contro Pavia è sempre bellissima, squadra vicina, società importante Io sono un ex, qualcun altro è un ex, quindi sfida di cartello e che torna dopo tanti anni alla Dossenina Quindi speriamo che ci sia tanta gente a sostenerci Su che cosa ti focalizzerai principalmente? Sulla crescita della squadra, a prescindere da chi troveremo Abbiamo davvero i primi dati, il primo riscontro di una partita vera Quindi abbiamo statistiche, strumenti e anche video per analizzarla e correggere E cercare invece di continuare sulla strada dei miglioramenti che abbiamo intrapreso Avere una partita ufficiale in più nelle gambe può essere un vantaggio? Per me sì, anche se sono tutte supposizioni, poi il campo determinerà sempre questo Se una in più può essere un vantaggio, figurarsi due, quindi è il suo obiettivo E' quello di provarci anche la settimana prossima Quella corsa liberatoria sotto la curva dopo il gol è un segno di liberazione? Sì, ci voleva, era la prima partita ufficiale Poi a casa mia ci tenevo particolarmente Ma soprattutto era importante per la squadra recuperare subito il risultato E anzi, da un lato mi dispiace che non sia riuscita anche a ribaltarla sul campo Perché secondo me l'abbiamo meritato di più, ecco, soprattutto il secondo tempo Abbiamo giocato quasi solo noi, loro giocavano solo in ripartenza Poi meno male abbiamo vinto anche i rigori Quindi ha dato anche un po' più di stimolo anche quello Perché i rigori comunque danno sempre qualcosina in più anche a livello di adrenalina È più rischioso però danno qualcosina in più, ecco, è stato bello anche vincere così Per te che sei di Voghera la partita di domenica è un altro derby? Beh, forse per me che sono di Voghera quella di domenica è ancora più importante Che è quella appena passata perché Voghera-Pavia alla fine non dico odio ma ci manca poco E quindi forse sento di più questa qui che è quella appena passata Quella appena passata alla fine giocavo contro tra virgolette amici E persone con cui ho un buon rapporto quasi totalmente Quindi era solo bello perché ero a casa Per un attaccante forse ancora più importante trovare il feeling con i compagni Come sta procedendo il tuo inserimento? No, beh, con l'inserimento procede molto bene Adesso all'inizio abbiamo magari lavorato più sulla fase difensiva E sulla manovra di costruzione da dietro Pian pianino ci stiamo affinando anche davanti Con il rientro di Barzo che aveva saltato la prima parte del ritiro Arriva sempre di più l'intesa e credo che si possa fare molto bene durante l'anno Vedere dei tifosi del Fanfulla nello stadio del Voghera ti fa ben sperare anche per la partita di domenica? Beh, spero che gli abbia fatto venire voglia di venire a vedere un'altra partita E dai, venite a vedere noi e ci divertiamo tutti insieme Dai, speriamo Ora possiamo dirlo, il pitbull è tornato Sì, ora sì È stata un'estate un po' particolare Per chi fa questo mestiere non è mai semplice Quindi sono contento che la società mi ha dato ancora fiducia Sono contento di aver lasciato una bella impressione E niente, adesso si pensa solo a domani Tu al di là della vittoria del campionato Avevi proprio lasciato un pezzo di cuore qua a Lodi Sì, vabbè, sono sempre stagioni molto toccanti E oltre ad avere un bellissimo rapporto con le persone attorno alla società Sono contento di essere rimasto qua perché ho vissuto dei bei momenti E spero di viverne ancora di meglio Cosa può dare Omar Laribi e lo spogliatoio del Fanfulla? Ah, può dare sicuramente una mano in più Dal punto di vista dell'esperienza Anche nella crescita dei ragazzi che si apprestano per il primo anno a fare questa categoria Sicuramente posso dare qualcosina di più all'interno del campo Perché a parte la parentesi dell'anno scorso Comunque arrivo dalla categoria della D Quindi la conosco come le mie tasche E spero di riconfermarmi ancora un giocatore di quella categoria Anzi, punto sempre più in alto Tu che conosci appunto la categoria, questo Fanfulla dove può arrivare? Questo Fanfulla se continua a lavorare così può fare un gran campionato Mantenendo sempre lo stesso standard Quindi teniamo sempre a lavorare tanto Come abbiamo sempre fatto l'anno scorso E sicuramente il lavoro ci porterà a toglierci grandi soddisfazioni Sei pronto per giocare domenica? Sì, ormai sono qua con loro Ringrazio la società che mi ha permesso di allenarmi fin dall'inizio Quindi non vedo l'ora Direttore l'aveva detto Mai dire mai Sì, tra l'altro siamo anche tutti molto contenti Perché comunque Omar è un giocatore che è stato importantissimo lo scorso anno E siamo contenti di averlo qui tra noi Si dà anche a mister Cicere un'opzione in più? Sì, un'opzione in più che gli dà anche tante altre soluzioni in più riparti del campo È già pronto l'arrivo per giocare domenica? Sì, deciderà il mister se giocherà o no sicuramente sì perché comunque si sta allenando fin dall'inizio Per cui se il mister lo tirà opportuno sicuramente sarà negli undici Un ragazzo che non crea problemi ma fa il gruppo e questo è importante Un ragazzo che ci mette tanta passione e tanto cuore Per cui direi una conferma importante Una sua battuta anche sulla bella vittoria di domenica? No, più che una battuta sono contento perché abbiamo raccolto un qualcosa Che ci permette di poter lavorare serenamente Comunque la squadra si sta allenando, si sta impegnando al massimo E di questo comunque faccio, visto che sono stato anche in vacanza Complimenti al mister, a tutto lo staff Per quello che la squadra ha fatto fino ad oggi E ringrazio nuovamente la società che comunque mi ha messo in condizione di lavorare con la massima serenità Per cui siamo pronti per affrontare questo campionato Grazie